Lavoro intenso in queste ore da parte degli uomini della Guardia di Finanza di Venezia sul materiale cartaceo e informatico sequestrato all'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli. I finanzieri del nucleo di polizia valutaria e tributaria hanno acquisito la documentazione che riguarda l'ex numero uno dell'istituto di credito e gli altri 14 indagati dalla sede di Montebelluna. Saranno analizzate tutte le operazioni fatte per confermare l'ipotesi accusatoria che imputa a Consoli e agli ex manager di aver ostacolato gli organi di vigilanza rappresentando nel 2013 e 2014 uno stato patrimoniale di solidità della banca non reale ottenuto truccando i conti. Le fiamme gialle stanno anche passando al setaccio conti corrente depositi e proprietà intestate a Consoli e ai suoi familiari. La procura ha disposto il sequestro di 45 milioni di euro. Intanto la polemica sul fronte politico continua con il duro attacco del Movimento 5 Stelle. E non si sono accorti di nulla, non si accorgono mai di nulla, non si sono accorti di nulla con il Mose, non si sono accorti di nulla nemmeno in questa situazione. Ogni disastro che avviene in Veneto non si accorgono di nulla e anzi hanno fatto di tutto per salvarli dalle ispezioni della Banca d'Italia. Noi invece siamo dall'altra parte, noi vogliamo la trasparenza, noi vogliamo onestà e vogliamo che queste persone paghino per ridare tutto quello che hanno perso ai cittadini che sono stati truffati. Grazie a tutti.